Ciao ragazzi oggi vi parlerò di un evento molto bastardo da una mia amica chiamata Mika, perché questo video? Perché mi sono stancato delle sue cazzate oggi mi aveva contattato una certa Adri una mia ex amica direi, quando Mika scopri che ho detto solamente il fatto di fingersi che un certo boss si ficca nell'account, mi ha minacciato di bruciare all'inferno e che sono inutile inutile lo sarà Bendo, chi è Bendo? Il suo principe azzurro che se qualcuno lo toccava lei augurava la morte e non scherzo ora stai a sentire Mika se stai guardando questo video ricordati che hai fatto una grande cazzata, perché io mi sono rotto i coglioni delle tue paranoie, lo confermano i miei amici.